Ora abbiamo una vite e un bullone Allora fai una cosa, avvitali, controlla se sono normali, se c'è qualcosa di truccato No, di qualcosa di strano? No, ok Io intanto tiro fuori questa catenina, ok? E' così, basta così Allora facciamo combaciare il buco della vite con quello del bullone Mettiamo la catenina all'interno In questo modo la catenina sta dentro, giusto? Se tu provi a tirare, ovviamente la catenina non può fuggire, giusto? Per farla fuggire bisognerebbe tirarla via così Ok, adesso guarda, prendiamo e andiamo un'altra volta a inserire la catenina dentro al bullone Ci siamo? Se io tiro, non ci manca Ora guarda che cosa mi vorrei fare Mi vorrei Rompa Girare In questo modo La catenina sta penetrando l'interno della vite E ora la farò uscire Dall'altra Mi camionare Si 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 Si